Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Overwatch, in questo video utilizzerò Sombra, vi auguro buona visione. Bene ragazzi, ci troviamo nuovamente nella zona di addestramento e siamo qui per parlare finalmente di Sombra, che è uscita già da un bel pezzo, però diciamo che ho preso il mio tempo per fare una guida, perché sapete bene che mi piace studiare un bel po' il personaggio, e per quanto riguarda Sombra ho perso molto più tempo perché ci sono tantissime cose che non vengono spiegate in generale dal gioco, e che possono essere sicuramente molto interessanti, per questo diciamo che mi sono un po' scritto qualcosa qui, accanto per evitare magari di dimenticare alcune cose, perché sapete già che nonostante io sappia le cose a volte dimentico, e poi durante la partita, ah sapete, mi sono ricordato di questo particolare, questa volta vediamo un pochino se posso limitare un pochino il tutto. Allora Sombra, partiamo dal presupposto che come personaggio è un personaggio che si può trovare molto bene in attacco, piuttosto che in difesa ovviamente dopo le partite vedremo il perché, e parliamo un attimo della sua arma, delle sue abilità. Allora, come possiamo vedere ha una mitraglietta, 60 colpi in canna, e fa un ottimissimo danno da distanza medio-corta, però ovviamente perde moltissimo a distanza, cioè diciamo non fa nemmeno tantissimo danno, ed è molto 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 imprecisa. Potremmo quasi pensare un po' come Tracer, su certi punti di vista. Ora, il clic destro magari, che sarebbe l'hacking, ne parleremo un pochino meglio dopo, perché è quello proprio di cui ci si perderà un sacco di tempo. Quindi, parliamo un attimo della sua E, che sarebbe il rilocatore. In pratica lanceremo questo meccanismo che ci permetterà di teletrasportarci. Qui al centro abbiamo questo timer che parte da 15 secondi. Praticamente, ovunque ci troviamo nella mappa, possiamo muoverci con tranquillità, poi utilizziamo la E e arriveremo un po' sul punto dove è atterrato il nostro rilocatore. Ora, questo meccanismo non si può attaccare alle pareti o ai tetti, infatti se lo lanciamo contro il muro andrà a cadere per terra. Non può essere distrutto dai nemici, però può essere visto. E questo diciamo che è una cosa piuttosto importante da sapere, perché questo significa che magari qualcuno si può mettere per esempio qui, aspettare che noi torniamo sul punto magari con pochissimi HP, e magari provare a farci un'imboscata, una controimboscata anzi potremmo dire, perché diciamo che Sombra si basa moltissimo sul cercare di dare fastidio alle retrovie e ai supporti, e a fare imboscata. Quindi, per quanto riguarda l'utilizzo di questa E, possiamo utilizzarla ovviamente anche per raggiungere certi punti un pochino più sopraelevati, però la cosa importante, almeno come mi piace di più utilizzarla, come credo che sia più importante utilizzarla, sarebbe lasciarla tipo sopra il medikit, andare ad attaccare, tra virgolette, vedere un pochino come è la situazione, dare informazioni, eccetera, eccetera, per dire, uccidiamo il bersaglio principale e poi utilizziamo la nostra E per tornare direttamente sul medikit e magari levarci da certe situazioni piuttosto bruttine. Ora, vediamo un attimo l'invisibilità, esattamente com'è che lo chiama qui occultamento termo-ottico. Allora, questo occultamento termo-ottico praticamente ci permetterà di andare invisibile per circa 5 secondi, e, oltre a questo, avremo anche la velocità di movimento aumentata. Ora, mentre che saremo invisibili, potremo lanciare la nostra E per spostarci. Ora, però, che cosa non possiamo fare mentre siamo invisibili? Non possiamo né sparare, cioè, ovviamente, prima di poter sparare dovremo uscire dall'invisibilità e non potremo nemmeno hackerare direttamente la gente, quindi con il nostro click destro. Ora, è importante da sapere che, se per puro caso, qualcuno dei nostri avversari riesce a colpirci mentre che siamo invisibili, l'invisibilità si romperà. Quindi, facciamo un esempio, stiamo passando mentre che c'è il fuoco nemico, ecco, come vedete, siamo stati interrotti, in questo caso siamo usciti da questa invisibilità. Un'altra cosa importante è che, se mentre che stiamo per andare in invisibilità veniamo colpiti, quest'ultima si interromperà e saremo probabilmente dei guai. Ora, comincia un attimo la parte di sombra che praticamente ci ho perso moltissimo tempo e diciamo che ho anche dovuto utilizzare il cronometro. Ah, ecco, prima di passare a queste cose, voglio tornare sulla E. Il cooldown della E partirà sempre da 6 secondi, anche se facciamo scadere il tempo a disposizione per utilizzarlo. Quindi questo significa che io adesso sto aspettando apposta di far finire l'abilità che, tra parentesi, quando sta per finire fa anche un rumore diverso. Se ci fate caso, un attimo, quando arriva all'incirca 3 secondi fa come il rumore di una sveglia che suona, tipo che diventa un po' più intenso. Quindi fateci un attimo caso, ora lo farò arrivare a 3 secondi e sentirete quel bip bip bip, come per dire, vedi che sta finendo. Ecco qui, sono rimasto un attimo in silenzio, proprio per cercare di farvi sentire un pochino meglio questo suono. E come potete vedere, il cooldown parte sempre da 6 secondi. Molto bene, adesso prepariamoci perché è il momento, praticamente, di parlare dell'hacking, che sarebbe, ovviamente, l'abilità più interessante di Sombra, ovviamente, perché, praticamente, questo hacking, che cosa fa in sé? Praticamente, ci permette di silenziare, quindi impediremo ai nostri avversari di utilizzare le abilità. Ora, possiamo utilizzare questo click destro, quindi, sia sui medikit, sia sulle torrette di Torbion, ovviamente su questo c'è molto da dire, e sia sui personaggi. Ora, sui medikit, che effetto ha? Allora, sui medikit, praticamente, per quanto riguarda la nostra squadra, aumenteremo il tempo di... cioè, diminuiremo di un sacco il tempo di respawn di questi ultimi. Ora, per esempio, prendiamo il medikit più grande, che, solitamente, ci mette 15 secondi, normalmente, per suonare. Se lo prendiamo, ora, in questo caso, come vedrete, qui, ci metterà all'incirca 4 secondi. Ora, dico all'incirca perché, comunque, il cronometro può essere preciso, come può essere un pochino meno preciso, però, diciamo che all'incirca sono 4 secondi sui medikit grandi, quindi, questo è sicuramente una cosa utilissima. E vedrete anche che c'è questo teschetto, e vi spiegherò anche che cosa significa, perché noi lo vediamo in questo modo. Però i nostri avversari lo vedranno di un altro colore, e, praticamente, i nostri avversari non avranno la possibilità di prendere questi medikit. Quindi, una cosa che mi piace tantissimo fare è utilizzare l'invisibilità, magari raggiungere le retrovie dei nostri avversari, magari prendere il possesso, tra virgolette, di questi medikit, perché sappiamo già che ci sono i supporti. È vero che i supporti sono sicuramente molto più efficienti dei medikit. Però ci sono certi momenti in cui, magari, qualcuno dice, caspita, vorrei andare a prendere un medikit perché ho pochissimi HP, e la situazione in questo momento, c'è il mio supporto in questo momento, non c'è, sta pensando ad altro. E magari, immaginatevi un attimo di arrivare lì e trovare questo teschio, di colore arancione, in questo caso, o rosso, all'incirca, e pensate, caspita, sono fregato, perché significa che non posso prendere il medikit. In pratica, che cosa faremo? Daremo un vantaggio per la nostra squadra in modo incredibile, cioè faremo quindi spawnare molto velocemente questo medikit, ma i nostri avversari non potranno prenderlo, quindi anche se passeranno di sopra, non lo potranno assolutamente prendere. E questo può dare un sacco di vantaggi alla nostra squadra. Ora, l'hacking sui medikit, in particolare, sempre cronometrato, dura all'incirca un minuto. Quindi, e quando invece utilizziamo l'hacking sui nostri nemici, esattamente dura 6 secondi. Il cooldown della nostra abilità è di 10, di 12 secondi, scusatemi. E, soprattutto, persiste anche quando moriremo. Ora, ho fatto più o meno un conto, potremmo avere all'incirca 3 medikit hackerati prima che il primo che è stato hackerato finisca il suo effetto. Ovviamente poi dipende da quanti decidiamo di hackerarne e quant'altro, quindi questa è una cosa un pochino così e così. E che cosa fa questo hacking, oltre a silenziare i nostri avversari? Allora, oltre a silenziarli, praticamente ci permette di vedere se hanno la loro ultra pronta. In pratica, purtroppo qui adesso non posso farvelo vedere perché ovviamente i bot qui non hanno le ultra, però in pratica, dopo aver hackerato un nemico, praticamente vedremo sopra il suo nome o sotto, se non va derrato sotto, il simbolo che appare a noi quando abbiamo... cioè nella nostra squadra solitamente abbiamo l'ultimate pronta. Per esempio, com'era, tipo la freccetta o qualcosa del genere. Comunque vedremo un simbolo sotto il nome del nostro avversario e capiremo quindi che è, sapete, ha l'ultimate pronta, quindi facciamo attenzione. Ora, per quanto riguarda l'hacking, può essere interrotto molto facilmente. Se ad esempio prendiamo danno mentre che... Eh, dai, sparatevi. Se mentre che stiamo hackerando, veniamo colpiti da qualcosa, l'hacking verrà interrotto. Se mentre che ci stiamo muovendo, l'avversario lo perdiamo un attimo di vista, l'hacking si interromperà pure. E questo può significare che potrebbe essere un buon problema per noi, perché se ci interrompono questo vuol dire che probabilmente saremo comunque nei guai. Quindi per questo, dico, è sempre buono avere un piano di fuga. Poi, l'hacking non può passare le barriere. Quindi prendiamo la barriera di Reinhardt, la barriera di Zarya, la barriera che mette Winston. però riesce a superare la barriera di D.Va. Ovviamente per la barriera intendo anche quella di Simmetria, quella che lancia in avanti. Eh, vediamo. Un'altra cosa che ho voluto testare, e per questo anche ci ho perso molto tempo, era Bastion quando è in modalità torretta. Se noi riusciamo ad hackerarlo, cosa accade? Esattamente Bastion quando viene silenziato in modalità torretta, poi di conseguenza tornerà in modalità ricognitore. E questa è sicuramente un'informazione piuttosto interessante, anche se in questo periodo Bastion magari può non essere utilizzato più di tanto, può essere una cosa interessante. Come funziona invece l'hacking con la torretta di Torbion? Diciamo che riuscire ad hackerare la torretta di Torbion non è una delle cose più facili, perché sappiamo bene che la torretta di Torbion attacca praticamente tutti i nemici che ci sono entro un certo range. Diciamo che anche noi dobbiamo riuscire a vedere questa torretta per poterla hackerare. Non è proprio la cosa più facile, perché poi soprattutto se l'avversario che usa Torbion è un bravo nano, non voglio ripetere per l'ennesima volta il nome, solitamente è sempre lì vicino. Quindi questo vuol dire che se non ci sono altri nostri compagni nel range della torretta, e questa torretta magari sta sparando con i nostri compagni, è difficile che riusciremo ad hackerarla, per il semplice motivo che questa torretta si girerà subito su di noi. E ovviamente l'hacking, come abbiamo visto prima, se veniamo colpiti da qualsiasi cosa, praticamente verrà interrotto. Poi un'altra cosa che ho voluto guardare è cosa accade se silenziamo Lucio o Messi, soprattutto Lucio quando ha la sua aura curativa. L'aura curativa continuerà a funzionare, però ovviamente non potrà utilizzare la sua E per potenziarla, e Messi potrà continuare a curare, perché comunque è come se fosse la sua arma. Vediamo, poi... Anche se si muore praticamente non si perde l'effetto dell'hacking sui medikit, posso anche dimostrarvelo un attimo. Vediamo se poi intanto sto dando un'occhiata alla mia lista. Quindi abbiamo hackerato il mini medikit che all'incirca, come respawn diventa di due secondi quando è hackerato, ora morirò apposta, e torneremo lì e vedremo ancora il teschetto. Eccolo lì. Quindi, come potete vedere, l'hacking persiste anche se moriremo, quindi è un'altra informazione buona da avere. E vediamo... Si possono vedere le ultimate... Ah, ecco, mi sono ricordato un'altra cosa. In questo momento stiamo vedendo quel bot lì sotto. Che cosa significa? Praticamente sombra anche una passiva molto interessante, che praticamente permette di vedere gli avversari, o comunque i bersagli nemici dietro i muri, quando sono all'incirca al 50% di salute. Quindi questo vuol dire che avremo la possibilità di andare lì, magari prenderli alle spalle e finirli, colpendoli quanto più possibile alla testa, possibilmente, anche se ovviamente la cosa non è proprio sempre facissima, perché non sempre troveremo gli avversari da soli. Ora, sombra se la cava molto bene contro magari i cecchini. E c'è anche un'altra piccola informazione importante da dare, cioè che è... Non è tanto piccola, anzi è molto importante, che Widowmaker, Hanzo, o comunque quelli che possono rilevare, praticamente possono vedere sombra mentre è invisibile. Ora, parliamo un attimo della ultra di sombra, che sarebbe praticamente, come è che la chiamo, il mega hack, come l'IMP, scusate. L'IMP. E in pratica cosa fa? Applica praticamente l'hacking a tutti i bersagli, i bersagli che ci sono vicino a Sombra, e anche ai medikit. Ora, facciamo così. In teoria dovremmo riuscire ad hackerare i bersagli che sono vicino. Onestate, ora non sto capendo perché non sta hackerando il botto. Però, come vedete qui, abbiamo hackerato il medikit. Quindi, cosa accade con questa ultimate? Abbiamo la possibilità di distruggere direttamente le barriere e gli scudi. Quindi, se ci fate un attimo caso, barriere e scudi si intende, per esempio, la vita di Zeniatta, per la maggior parte, è formata da scudi. Quindi, se utilizziamo la nostalgia, ovviamente, Zeniatta si ritroverà, senza, ovviamente, morto, quasi. Che dice, caspia, dove sono finiti i miei scudi? È molto efficace sulla barriera di Reinhardt, perché sappiamo che la barriera di Reinhardt ha 2000 HP, e questa ultimate la riesce a distruggere, ovviamente, completamente. E quindi è molto, molto potente quando si va, diciamo, in un fight. Soprattutto perché sappiamo già che i nostri avversari verranno silenziati e, oltre a questo, avremo anche informazioni sul loro stato dell'ultimate. Ora, questa nostra ultra, purtroppo, non può oltrepassare i muri. Cioè, in questo caso, se i bot, o comunque se i nostri avversari si riparano dietro un muro, eviteranno, ovviamente, l'effetto di questo hacking. E poi, per quanto riguarda, in effetti, l'ultra è, potremmo dire, un hacking ad aria. Per essere proprio bello, semplice, semplice. Ok. Vediamo. Scommetto che avrò dimenticato qualcosa nel frattempo, perché è proprio, sapete, il tipico sesto senso. Però, adesso andremo a vedere un pochino, in partita, come si muove Sombra, qual è il suo compito principale. e vediamo un pochino di attuare delle buone strategie. Quindi ci rivediamo direttamente in partita. Non è proprio una cosa buonissima per noi, soprattutto considerando che abbiamo Hanzo in attacco. Ma perché Hanzo? Oh, accidenti. Ho anche dato quel medit, vorrei un attimo vedere com'è la situazione qui dentro. Vediamo se possiamo provare a passare in mezzo a tutti quanti. Ok. Perfetto. Siamo riusciti a evitare di farci vedere per il momento. Ok. So che hanno una Widow Maker. Purtroppo, ok, è posizionata qui sopra. Quindi mi devo mettere qui. E devo sperare che non mi senta. L'ascensore è più lento dello schifo. Allora, ragazzi, questa so che è la cosa più stupida del mondo. Probabilmente la potrei anche uccidere, però voglio provare a prenderle alle spalle. Nessuno mi vede. Non provare a scendere perché ti ammazzo. Perdonatevi, ragazzi, so che ci marinerò come un idiota qui. Ho usato la E tipo a un centimetro, ma non mi interessa. Ci sono riuscito dal mio obiettivo. Inseguite i vostri sogni. Ok. Bene, ragazzi, ci troviamo a King's Row. Probabilmente avrete già visto quella parte che ho messo prima, che, diciamo, era un po' quello che mi sento quando cerco di fare una partita decente su Overwatch. Però, anche guardando le composizioni già dall'inizio, mi viene da piangere. Porca la miseria, ma perché non sono mette tanti guaritori? Ok. Potrebbe anche funzionare. Beh, sappiamo già che senza support e senza tank a volte si può vincere, no? Sicuramente. Abbiamo basti in un attacco. Sì. Evviva. Vale. Coraggio. Proviamoci, dai. Proviamoci, proviamoci. Spero di poter applicare comunque quello che ho spiegato durante la parte, tra virgolette, del tutorial. Quindi, cercherò anche di spiegarvi che cosa cercherò di fare in questa partita oltre che a vincere, magari, in modo normale. Cioè, comunque, a fare una partita normale. Vorrei provare a chiedere. Guys. Please. Tank and healer. Cioè, porca c'è la miseria. Siete anche pre-made, ma... Dai. È che... No, almeno pre-made. Capisco che è quick match, ma... Non mi vale di farmi farmare per altri cinque minuti. Cioè, già è da più di un'ora che mi faccio farmare. Più o meno. Ok. Prima cosa, quindi, che farò in questo momento sarà hackerare questo medikit, perché per la mia squadra può essere piuttosto interessante. Diva, diciamo che può parare i colpi, ma non può fermare il mio hacking. Però in questo caso non mi conviene provare a hackerarlo, soprattutto perché sono proprio davanti a lei. Quindi, sarebbe un po' difficile riuscire a non farsi colpire da diva mentre che... Siamo davanti a lei. Ok. Eh... Vediamo. Abbiamo sentito una... Widowmaker. L'ho sentita, ma non la vedo. In questo momento. Quindi, probabilmente aspetterò un attimo l'hacking e hackererò questo kit medico che viene utilizzato anche dai nostri avversari. Specialmente dai nostri avversari. Forse è da queste parti. Ah... Vediamo se si ferma un attimo. Sì. Ok, perfetto. Abbiamo comunque messo fuori posizione, che è quello che mi interessa di più fare, perché... Wow, what? Mi ha colpito con la sua trappola. E come tossisce le sombra, fa impressione. Pare che proprio sta morendo male. Comunque, eh... Ok, uno dei nostri compagni di squadra finalmente ha switchato a Reinhardt. No, accidenti. Oh! Ok, ho attento anche il globo, quindi è meglio sparire da qui per il momento. Ok. Ma perché due volano tutta il... Ma che cacchio è? Questa sta volando. Oh, mamma mia. Se c'è io una mira schifosa, figuriamoci... Mentre che c'è uno che vola. Ok. Ovviamente, Widowmaker aveva la sua ultimate attiva, quindi riusciva a vederci perfettamente. Ok. Il soldato è morto ovviamente che deve essere inciampato perché è stato strano con il crevato. Non ne riuscirò mai ad acchiappare. Utilizziamo la nostra ultimate e silenziamo un po' di gente qui. Però... Vediamo nessuno dei miei compagni lì purtroppo per approfittare di questo momento. Oppure... Forse sì, invece. Ah, abbiamo una Widowmaker in attacco. Ecco cosa sta succedendo anche per noi. Dobbiamo utilizzare la nostra rete a queste parti. Quella Reinhardt ha l'ultimate, quindi già... Eccola proprio immediatamente schivata. Nice. Poi già me l'era immaginato. C'eravamo gli Genji davanti a lui. Ultimate pronta. Hammer down! Subito, proprio. Immediatamente. Oh, mamma mia. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è cercare di dare fastidio ai nostri avversari. Qui non c'è bisogno per il momento di ri-hackerare perché tanto... Perché tanto non è proprio necessario al 100% perché quando torneremo poi potremo farlo lo stesso. Qui c'era Ana. Vediamo se possiamo conquistare finalmente questo punto di controllo. Oh, ho utilizzato l'ultimate su Widowmaker. Ok. Ana è esplosa. C'è ancora la Widowmaker avversaria da queste parti però voglio rimanere sul punto di controllo. Dai che... Almeno questo l'abbiamo preso. Sì! Nice. Siamo riusciti anche a prendere una kill sul soldato. Non siamo i migliori per difendere Bastion. E questa Widowmaker comunque sa giocare piuttosto bene. Non è proprio facile acchiappare Widowmaker quando sto saltella. Comunque cominciamo a creare altri medikit che per i nostri avversari potrebbero essere anche cruciali. E direi proprio che andiamo da queste parti. C'è Zeniatta. Non ho altri colpi devo fare attenzione perché è il globo della discordia. Però se riuscite a battere Zeniatta e dare un pochino il forfè. Trappertesi ragazzi ora mentre che sto giocando mi ricordo anche che quando utilizziamo diciamo che i nostri avversari vedono un attimo la scia dove stiamo andando cioè o più o meno la direzione in cui ci siamo spostati. Quindi occhio anche a questa cosa perché potrebbero intuire poi in quale punto ci siamo fermati. Ora sono riuscito comunque a distruggere il mecha di D.Va e proviamo a spostare questo carico perché lo sappiamo già che Sombra è ottima proprio per spostare carichi però se non lo fa qualcuno ho Genji che si è fatto uccidere da D.Va ok tutto a posto diciamo che in questo caso sto cercando di evitare di non farmi ammazzare perché in effetti considerando che ho una buona mobilità non dovrebbe essere così tanto difficile a meno che Widowmaker non riesca a sniperarmi oppure qualcuno riesce veramente a one shotarmi immediatamente in questo momento non posso continuare a spostare il carico ok stavo cercando se dovesse ok sta Widowmaker ogni volta che la vedo è Superman praticamente ok ok perfetto ce l'ho fatta finalmente dopo mezz'ora che gli spariamo addosso ce l'abbiamo fatta ok onestamente volevo cercare Reinhardt e company sì che sono infatti qua che stanno coprendo il carico proviamo ad andare in atto invisibile cerchiamo di capire un pochino meglio com'è la situazione usiamo l'ultimate sapete cosa buttiamolo giù questo Reinhardt ok ok molto bene sono riuscito a controllare un attimo il Reinhardt avversario cure fornite medaglia d'oro sombra healer confermato nuovo meta ragazzi sombra support ok so che il mio il mio come caspe si chiama il dispositivo di rilocamento non è posizionato sul medikit però in questo momento voglio provare a pushare questo carico forza ragazzi ce la possiamo fare ok creiamo quel medikit magari posizioniamo il nostro segnatore qui e andiamo da queste parti vediamo poi che cosa possiamo trovare sarebbe ottimo riuscire a disabilitare questo medikit per i nostri avversari ovviamente si parla ok peace ok 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 ogni volta che vedo Reinhardt in quel modo che corre con quell'ascia di guarda è proprio è bellissimo da vedere cioè è bellissimo da vedere ovviamente però non tanto perché si trova dall'altra parte ok proviamo un attimo a killare subito Anna ogni volta sto saltando proprio sopra i miei avversari e non sto riuscendo a fare le kill più facili che in questo momento dovrei riuscire a fare l'odio quando mi succede questa cosa è la mia mira fa schifo ok sono individuato a quanto pare si mi sa che c'è Widowmaker con la sua ultimate quindi in questo momento non posso utilizzare per bene la mia invisibilità talmente si ragazzi parlando un attimo di counter ok questa ultimate di Widowmaker è molto fastidiosa sicuramente e potremmo dire che questa cosa counter è abbastanza sombra però il counter per eccellenza è Winston un po' come per Tracer se ci pensiamo perché Winston ci può inseguire in tutti i modi possibili ci può stare alle spalle molto facilmente wow e e purtroppo può impedirci di andare in invisibilità in questo caso comunque sono riuscito a utilizzare un ottimo ultimate perché non so se avete capito benissimo cosa è successo però ho utilizzato la mia ultimate non solo per rompere la barriera di Reinhardt ma ho anche interrotto la sua carica che mi avrebbe preso sicuramente perché ero davvero vicino a lui caspita a me alla mia mira schifosa però direi proprio che è stata una cosa buona in questo caso perché siamo riusciti a buttare giù il loro tank principale e noi non abbiamo tank purtroppo per continuare a spostare questo povero carico che cioè in qualche modo non so nemmeno come siamo riusciti ad arrivare così ok vediamo un po' che Widowmaker è messa lì sopra quindi in questo momento non è proprio oh per favore una kill fatta per favore mira mira oh no ci morirò perché la mia E non c'è però almeno l'ho uccisa finalmente finalmente ce l'ho fatta comunque alla fine dopo 14 kill una morte ci può stare so che è stata stupidissima però quanto pare ci vorrebbe ora proprio in questo momento un cambio so che dovrebbe andare tank lo so il mio buonsenso dice vai tank ci serve qualcuno per spostare sto carico però il video deve finire dobbiamo continuare dobbiamo continuare per il momento finalmente la nostra finirà momenti ok quanto pare siamo riusciti a buttare giù loro non so esattamente chi forse Lucio ok individuato quindi questo vuol dire che purtroppo Widowmaker ha la sua ultima età ma chi è ciao Anna finalmente si la cosa migliore ragazzi vi posso dire per mirare meglio con sombra è abbassare poco poco la mira sembra quasi counter strike su certi punti di vista perché ho notato che quando sparo la mira se ne va poco poco più in alto cioè comunque i colpi tendono a salire non tanto per il rinculo probabilmente ma proprio perché non lo so è così perché onestamente il rinculo è molto più fastidioso se ci fosse veramente qui su overwatch cioè perché come vedete non è che se fosse tipo come quando utilizzo la kappa su counter strike che la mira fa proprio così come una pazza sarebbe molto più chiara la cosa cioè sai c'è quel rinculo ok dobbiamo fare così c'è soldato con davvero pochi hp e infatti siamo riusciti a buttarlo giù ok hackeriamo questo coso forza costo carico andiamo sul carico Reinhardt no aspetta ha hackerato ha di nuovo la sua ultimate Reinhardt quindi dobbiamo fare attenzione Widowmaker mi sta puntando oh mamma mia non è proprio una delle cose migliori anche Lucio ha la sua oh mamma mia sono morto ok fortunatamente no però voglio utilizzare la mia è in una posizione abbastanza lontana dai guai che siamo riusciti a riabbattere Reinhardt oh no c'è Diva forza ragazzi oh mamma non c'è bisogno di utilizzare la nostra per il momento però la voglio usare lo stesso perché comunque è rapidamente finita oh no e mi sa proprio che perderemo purtroppo sì esatto ma vabbè ragazzi questa diciamo che era un po' una dimostrazione di come utilizzare Sombra oh ciao Lucio mi è veramente spinto anche se comunque mi ero spostato quindi in generale l'azione che fa solitamente Sombra è quella di dare fastidio alla squadra avversario nel migliore dei modi e soprattutto magari cerca di completare le kill quando magari qualcuno non riesce a raggiungerle perché ovviamente abbiamo già visto che Sombra riesce a inseguire molto facilmente grazie alla sua invisibilità molto bene ragazzi quindi questa era Sombra fatemi sapere un pochino cosa ne pensate spero di non aver dimenticato nulla ogni volta o tra virgolette questi dubbi però in generale dovrebbe essere un po' tutto molto bene ragazzi vi ringrazio per la visione noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao